Grado di umanizzazione degli ospedali di Verbagna e Domodossola e azioni di miglioramento. Ne parliamo in questa puntata di Vivere in Salute, che si occuperà anche della campagna informativa ASL rivolta alle donne vittime di violenza. Nel corso del 2015 si è svolta la valutazione partecipata del grado di umanizzazione degli ospedali San Biagio di Domodossola e Castelli di Verbagna, procedura svolta dall'ASL in sinergia con i volontari di cittadinanza attiva Tribunale per i diritti del malato di Domodossola e Verbagna, seguendo le indicazioni della Regione Piemonte e dell'Agenas, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. Umanizzazione delle strutture ospedaliere significa essenzialmente mettere la persona al centro del percorso di cura. È un concetto antico che forse avevamo in parte dimenticato in un periodo in cui eravamo più incentrati sulla parte tecnologica della cura. Oggi è un concetto che sta ritornando e quindi umanizzare significa migliorare sicuramente la presa in carico dei pazienti, tenendo conto che la persona malata non è solo il portatore di una malattia, di una sintomatologia, ma è anche una persona che vive la sua malattia con la sua sensibilità, con la sua psicologia, con i suoi problemi familiari, i suoi problemi sociali, i suoi problemi lavorativi. Quindi diventa una presa in carico di tipo olistico completa del nostro paziente. Di umanizzazione abbiamo iniziato a parlarne con il Patto della Salute 2014-2016, in cui questo documento impegna tutte le regioni a attivare dei percorsi di umanizzazione del percorso ospedaliero e non solo ospedaliero. È un impegno importante e in realtà, se condotto bene, può portare dei grossi risultati in termini di cambiamento di quelle che sono le qualità delle cure prestate al paziente. C'è stata una sorta di indagini all'interno delle strutture ospedaliere, in che modo? Allora, su mandato della Regione Piemonte, trattandosi di un obiettivo della Direzione Generale, nel corso del mese di settembre-dicembre abbiamo avviato un percorso di analisi sulla base di quella che è la metodologia elaborata dall'Agenas a livello nazionale e già sperimentata in più di 250 strutture di varie dimensioni sul territorio nazionale. Questo percorso di analisi è basato su un questionario che prevede 144 item che vanno a esplorare... Che sono domande, sostanzialmente. Esatto, sono domande che vanno a esplorare molti aspetti di quello che è la gestione e la presa in carico del paziente all'interno di una struttura. da aspetti legati più a situazioni di tipo logistico, alberghiere, a situazioni legate all'informazione che viene fornita ai pazienti utenti, alla comunicazione, ovvero le metodologie di comunicazione adottate dalla struttura e anche l'accessibilità alla struttura sia in termini di percorsi sia in termini di procedure attuate. Chi ha compilato questi questionari? Questo questionario è stato compilato congiuntamente da Asla e i rappresentanti di cittadinanza attiva in quanto la metodologia lo prevede. È stato un impegno piuttosto gravoso, condotto congiuntamente. Al termine del percorso, che è stato piuttosto impegnativo, che ha coinvolto comunque tutte le due strutture ospedaliere, il gruppo ha poi ipotizzato, partendo da quelle che erano le criticità che erano emerse, fortunatamente poche, un piano di miglioramento che verrà attuato prossimamente. Un'indagine quindi che è terminata anche nei tempi che vi eravate prefissati e che ha evidenziato alcuni aspetti positivi e alcune criticità, come già lei ci aveva preannunciato. Partiamo dagli aspetti positivi, con particolare riferimento al San Biagio di Domodossola. Allora, gli aspetti positivi sono sicuramente che la logistica dei reparti è quasi ottimale, a parte una struttura che sarà oggetto di un'azione di miglioramento a breve. Quindi questo è assolutamente importante, perché i nostri pazienti soggiornano nelle nostre strutture per lunghi periodi. Un altro aspetto sicuramente positivo è quello legato alla modalità di comunicazione. In realtà abbiamo pochissime segnalazioni e non abbiamo riscontrato anche nel questione di segnalazioni in cui gli operatori adottino una modalità di comunicazione corretta nei confronti del paziente utente. Un altro aspetto sicuramente positivo, ed era uno degli item importanti nel percorso di analisi, era quello dell'apertura dei reparti. Noi, nonostante nei documenti ci sia scritto che la visita è consentita solo in determinate fasce orarie, da alcuni anni, proprio per cercare di portare il paziente a vivere la propria condizione di malato accanto ai propri familiari, abbiamo di fatto trasformato i reparti di detegenza in strutture aperte, per cui la possibilità dei parenti e dei familiari di visitare il proprio congiunto, pressoché sulla quasi totalità delle 24 ore, fatto salvo alcune fasce orarie in cui gli infermieri e i medici sono impegnati nelle attività sanitarie. Ci sono anche degli elementi sicuramente di criticità. C'è un reparto che, come ho detto prima, sarà un oggetto di miglioramento strutturale, in quanto è rispetto allo standard e si differisce parecchio. E poi c'è comunque il reparto di medicina, che ha sicuramente bisogno di un intervento di tipo strutturale importante. Altri elementi di criticità sono la segnaletica interna. La segnaletica interna, in quanto questo è un ospedale non monocorpo, quindi con padiglioni diversi e strutture collocate in maniera molto dislocata, soprattutto per quanto riguarda le attività ambulatoriali, per cui uno degli obiettivi è quello di migliorare la segnaletica interna. Un altro degli elementi di criticità è quello di migliorare la comunicazione all'interno delle strutture di pronto soccorso, soprattutto per far capire al paziente che accede alla struttura di pronto soccorso il tempo d'attesa. Il progetto prevede l'installazione di due tabelloni segnaletici in cui verrà evidenziato, a seconda del codice colore assegnato, quindi il codice di priorità, il tempo d'attesa stimato e la presenza o meno di situazioni che potrebbero condizionare il tempo d'attesa stimato. Ad esempio l'arrivo simultaneo di più codici gialli, quindi di codici di emergenza e urgenza, sicuramente condizioneranno. E quindi in tempo reale la tempistica verrà modificata. È uno strumento già adottato in altre strutture che ha dato comunque dei buoni risultati. Abbiamo sentito in questo progetto una collaborazione fattiva tra l'ASL VCO e Cittadinanza Attiva Tribunale del Malato. Come avete lavorato e come vi siete inseriti in questo progetto? Allora, per noi di Cittadinanza Attiva di Domodossola assolutamente non era la prima occasione, ma l'avevamo già fatto qualche anno fa questo monitoraggio dell'umanizzazione e dell'ospedalizzazione, insomma dell'ospedale o comunque della rete ospedaliera. Diciamo che questa volta è stato un progetto fatto appunto con la collaborazione dell'ASL e quindi con anche il personale dirigente dell'ASL. E questo è stato sicuramente o miglioramente una maggior presa a visione, una collaborazione diversa con l'ASL. Nell'indagine posso dire che la fotografia non ha accentuato grossissimi problemi a livello dell'ospedale San Biagio, sicuramente ci sono delle cose da correggere come ad esempio nel reparto di medicina, ma sicuramente in generale l'umanizzazione di questo ospedale è abbastanza buona, sicuramente si può migliorare. E tra le proposte di miglioramento, Cittadinanza Attiva Tribunale del Malato ne ha evidenziate alcune di facile realizzazione e altre che richiederanno invece più tempo. Ci sono ad esempio azioni di miglioramento come il parcheggio rosa per le gestanti che sicuramente è un obiettivo che potrà essere realizzato in breve. Ci sono invece progetti come quella dell'integrazione della dimissione tra ospedale e territorio che invece quello sarà un progetto che invece vedrà un pochino più a lungo termine. Il progetto della dimissione protette è sicuramente un progetto che rientra anche nel piano aziendale e territoriale, che è un obiettivo anche di questa direzione generale. È un progetto che sicuramente prevede la presa in carico del paziente dopo la dimissione, sia in strutture protette sia in famiglia. Quindi logicamente è un momento in cui il paziente viene dimesso, è un momento in cui è debole e delicato. C'è il paziente da sostenere ma c'è anche tutto l'entourage familiare da sostenere e quindi diventa una situazione abbastanza critica. Sicuramente adesso il sistema ha dei deficit soprattutto per quanto riguarda il venerdì, sabato e domenica e sono appunto i momenti più difficili proprio per le famiglie. Questo progetto prevederà che ci saranno delle dimissioni protette, ma è un progetto che noi abbiamo evidenziato e che abbiamo voluto tra i cinque prioritari, ma sicuramente è nell'intenzione anche di questa direzione generale e anche della Regione. Abbiamo visto la situazione all'ospedale San Biagio di Domodossola, siamo ora a Verbania. Anche in questo caso una collaborazione fattiva tra ASL e Cittadinanza Attiva Tribunale del Malato ci spiega in che modo il Tribunale del Malato è entrato qui a Verbania all'interno di questo progetto e con quali obiettivi. Abbiamo partecipato a questo progetto fin dall'inizio, quindi effettivamente possiamo dire che Cittadinanza Attiva ha voluto che si facesse questa verifica dei servizi relativi all'umanizzazione definendo anche i tempi e le modalità di effettuazione di questo lavoro. Poi noi come Verbania siamo un gruppo di circa 150 cittadini iscritti a Cittadinanza Attiva e che ha come obiettivo quello di tutelare i diritti, di migliorare la qualità dei servizi e quindi vogliamo diventare la casa dei cittadini attivi nei confronti di un servizio sanitario che deve rispondere alle esigenze di tutti. Quali sono state le evidenze di questo progetto che sono emerse dal vostro punto di vista? Abbiamo praticamente messo in evidenza 7-8 punti che dovrebbero migliorare la qualità dei servizi dell'ospedale di Verbania. In primi istanze entrando in ospedale abbiamo visto che il CUP ha un sovraffollamento di persone che vogliono comunque prescrivere e prenotarsi per degli esami e questo comporta effettivamente una difficoltà perché un cittadino deve prendersi mezza giornata una giornata di ferie per poter prenotare un servizio. Quindi noi cominceremo con migliorare il percorso della prenotazione degli interventi attraverso il coinvolgimento dei medici di famiglia, dei farmacisti, dei comuni per poter effettivamente evitare questa ressa di fronte agli uffici. E inoltre anche il discorso del pagamento del ticket che anche questo comporta effettivamente delle lunghe liste, lunghe file di attesa che si possa pagare il ticket attraverso strumenti telematici. E questo secondo me potrebbe risolvere un problema che io ho notato l'altro giorno che crea effettivamente grosse difficoltà nei cittadini. L'altro è quello di, possiamo dire, di garantire la continuità delle cure prendendo la continuità delle cure fra ospedale e territorio sette giorni su sette. Come per Domodossola anche a Verbagna saranno installati i tabelloni per i tempi d'attesa aldea e ampliamento degli orari di visita. E ancora? Abbiamo il potenziamento del servizio psicologico, non solo per i pazienti oncologici, ma anche per le donne in stato di attesa e dopo comunque il parto. Abbiamo il miglioramento dei percorsi entrando in ospedale. Poi abbiamo anche il fatto che noi, essendo comunque una città dove abbiamo, osservando durante l'estate, diversi cittadini che vengono, abbiamo comunque un turismo in aumento e non solo, noi siamo ormai una società multietnica per cui tutte le indicazioni, tutti i deployants che noi abbiamo nell'ambito dell'ospedale devono comunque avere traduzioni in diverse lingue in modo tale che chi acceda al nostro ospedale, anche se fosse un inglese, un tedesco o un turco, deve comunque avere la propria modulistica ed essere informato pienamente. Noi seguiremo comunque con attenzione e nel gruppo che abbiamo costituito la realizzazione di questo piano di miglioramento di cui il direttore generale, il dottor Caruso, ha già dato autorizzazione che verrà realizzato entro il 2016. Lo seguiremo con attenzione perché riteniamo che legati a questi aspetti ce ne siano altri che dovranno poi essere tenuti in debita e considerazione. Peraltro però la collaborazione vostra con l'ASLA non si esaurisce su questo progetto? No, la nostra collaborazione con l'ASLA è una collaborazione diciamo a largo raggio nel senso che noi facciamo parte della conferenza di partecipazione che ha come obiettivo quello della verifica dei servizi sanitari e avanzare delle proposte migliorative di questi servizi. Quindi abbiamo costituito due gruppi di lavoro di cui uno sulle fragilità, quindi anziane, disabili e quant'altro e l'altro sulla tutela dei diritti relativi alla salute. Quali sono gli aspetti positivi e quali le criticità che sono emersi nel corso di questo studio? Dico il primo aspetto positivo è stato sicuramente questa possibilità di lavorare assieme le rappresentanze dei cittadini in maniera estremamente positiva, propositiva affrontando appunto, verificando la situazione senza problemi assieme e identificando anche assieme le possibili soluzioni. Questo credo sia stata la cosa più importante e più significativa. Poi certamente dal punto di vista mio come direttore dei due presidi ospedalieri, del sanitario, ovviamente il fatto che la maggior parte dei requisiti che erano da valutare, requisiti sulla documentazione, requisiti sulla umanizzazione della struttura, diciamo si è condiviso di una situazione sia domodosa ma anche e soprattutto anche a Verbania per alcune questioni specifiche per esempio l'oncologia, insomma di avere comunque una situazione direi più che adeguata. Per quanto riguarda invece le criticità emerse con particolare riferimento a Verbania visto che già con il dottor Senestraro ci siamo occupati in particolare del San Biagio di Domodossola? Direi che le situazioni sono abbastanza, i dati abbastanza simili sui due presidi rispetto magari sono degli aspetti più pertinenti, Verbania sicuramente su, visto che la presenza della struttura di strategia e ginecologia e di pediatria abbiamo il punto nascito d'altra parte, quindi sono comunque, il discorso per esempio del fare in modo di informare le donne e di lavorare è uno degli obiettivi di miglioramento che ci siamo dati e che sarà appunto l'obiettivo nostro di lavoro assieme alle associazioni sul parto in anonimato, questo sicuramente è una cosa estremamente importante è una cosa sulla quale dobbiamo puntare tanto, viene già garantito attualmente ma cercare di farlo con la massima informazione possibile anche un modo per far conoscere alla nostra popolazione e ai cittadini come si possono, diciamo all'interno delle strutture, garantire dei diritti che sono propri. Progetto di umanizzazione degli ospedali, una prima importante fase si è conclusa ed era uno degli obiettivi della direzione generale. Sì, è una cosa ritengo molto importante perché avvicina l'azienda, i suoi servizi, gli operatori e i cittadini. È stata fatta questa indagine sui due ospedali di Verbania e Domodossola l'anno scorso, nel mese di settembre in poi e ha dato luogo ad individuare alcune azioni molto specifiche che stiamo mettendo in atto con i servizi e nell'arco dell'anno li concluderemo. Peraltro è stata una collaborazione importante quella tra ASL e Cittadinanza Attiva e Tribunale del Malato in questo progetto. È fondamentale, Tribunale del Malato e Cittadinanza Attiva hanno mai un'esperienza mi sembra decennale. Io in altre aziende ho lavorato con loro sempre sullo stesso tema e quindi portano anche un bagaglio di esperienze e di valutazioni molto importanti da questo punto di vista qua. Credo che se l'azienda, gli operatori e i servizi stanno vicino alle associazioni dei cittadini e i cittadini conseguentemente e si riesce ad individuare delle modalità di lavoro così semplici da questo punto di vista perché mi sembra che nell'arco dei tre mesi hanno lavorato parecchio hanno dato luogo ad una lista di cose da fare che l'azienda sia collonere del farle e credo che sia un buon viatico nel rapporto proprio tra la struttura sanitaria con tutti i suoi problemi che ha e i cittadini. E questo è sicuramente molto meritevole da parte dell'Associazione Tribunale del Malato che oltre a metterci giustamente in evidenza delle cose che non vanno ci aiuta nel lavoro, nell'individuare i campi di lavoro. Massimo, quindi ci sono otto azioni che dovranno essere portate avanti nel corso dei prossimi mesi per migliorare l'umanizzazione delle strutture ospedaliere? Certo, saranno mesi in cui ci vedranno impegnati sia come azienda sanitaria insieme ai volontari di cittadinanza attiva e dei tribunali di diritto del malato di Verbagna e dell'Ossola ai quali va il mio ringraziamento per la collaborazione e per il fattivo lavoro che hanno fatto insieme al gruppo di lavoro composto da rappresentanti dell'azienda sanitaria. Un lavoro che ci ha permesso di fotografare la situazione in essere sia dell'ospedale San Biagio sia dell'ospedale Castelli e ora questo impegno a cercare di introdurre otto azioni di miglioramento alcune che centreranno l'obiettivo già nelle prossimi mesi, nelle prossime settimane altre invece molto più complessi che arriveranno a compimento noi ci auguriamo entro fine anno. Direi che questa è un'azione importante voluta dalla Regione Piemonte condivisa con il Direttore Generale ma soprattutto condivisa con cittadinanza attiva quindi non solo scelte fatte e condivise all'interno dell'azienda ma condivise anche con i rappresentanti dei cittadini coloro che sono gli utenti dei nostri servizi e dei nostri presidi ospedalieri. Queste azioni di miglioramento hanno tenuto conto anche del progetto di realizzazione della nuova struttura ospedaliera tant'è che sono delle azioni che non vanno a intervenire sulle strutture ospedaliere ma vanno a intervenire sull'organizzazione sanitaria e del lavoro che vanno a migliorare alcuni servizi che noi eroghiamo. Per esempio pensiamo all'allargamento dell'attività del settore di psicologia che oggi svolge la sua attività a supporto dei ricoverati e dei malati oncologici e che domani noi ci auguriamo possa essere di supporto anche in un altro settore importante che è quello dell'ostrettrice e ginecologia. Quindi vedete dei miglioramenti, delle azioni di miglioramento che cercano di migliorare, di alzare la qualità già alta in alcuni settori ma di alzare la qualità dei servizi erogati dall'azienda sanitaria. Quindi ci possiamo risentire tra qualche mese per fare il punto della situazione e magari presentare quegli obiettivi raggiunti. Prevenzione e contrasto alla violenza di genere e sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli. L'Asla VCO è impegnata su questo fronte, anche di recente in occasione della Festa della Donna ci sono state delle iniziative. Ci racconta che cosa state facendo? È un tema di una gravità estrema, lo si legge costantemente purtroppo nei quotidiani su che cosa sta succedendo su questo versante. La Regione Piemonte ha fatto una legge specifica di stimolo a tutta l'organizzazione, non soltanto sanitaria, a dare dei punti di riferimento per le donne, per i bambini abusati. Dal nostro punto di vista abbiamo voluto richiamare l'attenzione da un punto di vista informativo. È una legge recente e quindi nell'occasione dell'8 marzo abbiamo voluto fissare l'attenzione su questo. Abbiamo distribuito dei volantini sui quali veniva esplicitata il contenuto della legge nei nostri punti dove il DEA, i consultori, dove sono i punti di riferimento a quale la donna si rivolge. Abbiamo non soltanto noi, ma insieme è un problema che deve investire le organizzazioni anche più ampie. Non è un problema che risolviamo da soli, ma infatti in questa occasione l'informazione è anche stata fatta per la provincia che ha collaborato e ha quel numero verde 1522 sul quale le donne possono rivolgersi. E si fa fatica, la donna non si rivolge per paura, per tanti motivi sostanzialmente. Quindi però starci vicino, cioè informare che si può alla donna che vuole discutere, magari vuole affrontare l'argomento, insomma ci siamo. Ecco, questo è importante che ci sia questo segnale che i servizi sono vicini ai più debili, in questa cosa è la donna violentata. Qual è il punto di riferimento per quanto riguarda l'ASL nel caso di una donna che avessi bisogno di sostegno e aiuto? Noi abbiamo come riferimenti sia al DEA sostanzialmente, ai pronto soccorso, la donna si rivolge, purtroppo in casi di violenza gravi, e lì trova qualcuno alla quale rivolgersi. L'operatore alla quale lei si rivolge la indirizzerà nel professionista più adeguato in quel momento. E poi abbiamo i consultori, la rete dei consultori è un'altra sede dove la donna maggiormente si rivolge, quindi anche in quella sede troverà l'informazione su questo argomento e anche lì può trovare, magari non in quel momento, ma l'operatore che serve per il suo caso e quindi avere l'appuntamento e quindi poi proseguire l'incontro con i servizi. Sono operatori di natura diversa perché c'è bisogno magari del psicologo, c'è bisogno del medico, c'è bisogno dell'assistente sociale, insomma c'è bisogno non di un operatore, c'è bisogno di qualcuno che prende in carico un problema molto grave. Ripeto, in questa fase non abbiamo segnali di donne che ci arrivano, però dobbiamo insistere perché il problema esiste, non è inutile sottacerlo, ci sono strade diverse, c'è il numero telefonico che ho detto prima, 1522, alla quale la donna si può rivolgere, ci sono anche il telefono rosa, c'è lo sportello della donna della provincia e ci sono i nostri numeri di telefono. Ecco, nei nostri luoghi si possono trovare la donna che ha preoccupazione, paura, volontà di parlarne e trova qualcuno ad ascoltarla. Siamo giunti al termine di questa puntata di Vivere in Salute, per qualsiasi informazione e anche rispetto ai temi trattati quest'oggi potete chiamare il numero verde 800 307 114 oppure scrivere a vivere in salute chioccio laslvco.it indirizzo utile anche per segnalarci argomenti di vostro interesse. Arrivederci!